Siamo arrivati. Sì va tutto bene, lo feci già io nel 1995, pensavo che potesse essere lanciato un messaggio, è stato un atto di impotenza e rischia di essere la stessa ora se non viene unito a dei provvedimenti che il governo ha in animo di prendere, il CONI stesso prenderà ma torno a ripetere vanno accompagnati da un decisivo intervento legislativo mettendo al bando ogni forma di lassismo. Io credo che il CONI debba chiedere al Parlamento italiano di riprendere certe proposte di legge, in particolare quella del 2001 che si ispirava molto alla legislazione inglese e che durante il suo percorso legislativo è stata in pratica resa blanda, inefficace e inadeguata. Non è solamente ovviamente questa una soluzione che risolve il problema, però io credo che in termini di urgenza, in termini di determinazione sia essenziale.